Oh mio dio quanto vuoi la tempesta No 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 Ragazzi mentre alteriamo belli carichi a dirty dogs vi consiglio di vedere il video fino alla fine per non perdervi nessuna di queste due partite in arena E se vi piacerà mi raccomando lasciate anche un bel like Ottimo 22 ragazzi è sempre un vantaggio Direi che possiamo avvicinarci a sto qua Che ragazzi è il push pazzesco Come è dito? Che dà più 30 ragazzi ottimo Ok eccoci qua Disimpulso ragazzi Lasera fine dall'alto Ok abbiamo l'aiga Ci sono due ragazzi sfondato Oh mio dio che lag Ma vedi che pia di merda Sfondato lo stesso Sfondato lo stesso Ottimo ragazzi un bel 50-60 Si ho fatto quelli carichi No dovrebbe essere 70 Prendiamo di spiegare un po' di mazzo Ok non vieni a spiegare Non vieni a spiegare Non vieni a coprire da dietro Non si sa mai che qualche pazzo arrivi Saltiamo ragazzi Niente Ok sfondato No ragazzi questo potrebbe essere Veramente un buonissimo show Si è sfondato ragazzi Si è sfondato da solo Questo qui si è palesemente Suicidato ragazzi Perfetto Abbiamo il fiume Che ci porterà dritti dritti in si Stiamo messi ben insieme ragazzi Questa qui Dobbiamo vincerla Ok ce ne stavano qua in acqua ragazzi Mamma mia che schifo Oh no 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 Ci siamo ripresi Ci siamo ripresi sul finire ragazzi Ok Ottimo ragazzi Distrutto lo shield Ok c'è un pazzo con il blaster Che è meno una che teneva una mira pessima Ok 30 Perfetto Siamo in 4 E noi siamo 3 Dove sta l'ultimo adesso Eccolo lì Sta arrivando come un messicano Rorto lo shield ragazzi Credo di essere quello Messo meglio Del momento Troviamo un attimino le palle A questi qua Dovamo solamente tenere d'occhio Il ragazzo lì E potremmo effettivamente Farcela Seguite da me Godo ragazzi Nemmeno ho fiuto la frase E si è chiusa da me Le brasi di sta roba Sono solide Sì Ok 26 26 ragazzi L'ho torsciuto un'altra volta Incredibile No 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 Che pazzo Ok Ok ragazzi Meglio non esforzo Uno è morto E siamo uno contro uno Contro uno Questo tipo è il palino Quindi Non ce la farà Però no Mai dire mai ragazzi E' pazzo E' pazzo Un bel 33 Non ci lo leva nessuno No Mi sta sparando Spara lui Ok questo ragazzo Mi ha raggiunto Male T'ha colpa sua Muoli Ok deve passare Per forza il mare Cioè il fiume Vabbè non so distinguere Nemmeno il fiume dal mare Ok dovevo fare la rotation Ragazzi Dove sta No No way Ok 30-30 Non ciò toglie nessuno Ragazzi Un bel 33 Abbiamo perso Completamente L'agrand Abbiamo ancora 8 jump in E un impulso Quindi stiamo messi bene In quanto ha movito Jump in ragazzi Un po' di agrand Ok Uno è morto Perfetto Allo spasso Ragazzi Non va bene Non va bene Per niente Che curiamoci E' volato via Ok No No non va bene Questo Ok Ho l'agrand Non so come Ma ce l'ho Questo è l'importante 111 ragazzi Che danno Danno a strade Che cadi BOMMA Ragazzi Strafondato Non so cosa vuole dire Mi troviamo Strafondato Ma lo strafondato Ok Domeno nei commenti Cosa vuol dire Questa frase BOOM GG Passiamo alla prossima partita Oggi Un nemico qua 28 Ottimo 29 Ok E' bianchissimo Possiamo anche pusharlo BOOM Sfondato ragazzi Questo qui dormiva Proprio in piedi Avevo uno scar Grazie Non solo facevi schifo Mi ho dato una kill easy Anche uno scar Perfetto Ragazzi ma c'è Un abetto Qui dietro Vedete qua ragazzi Che l'ha serato No Mi ha fregato La kill Col pompa Quest'uomo ragazzi Quest'uomo qua davanti E' l'essere Più scurato di sempre Tu non esci vivo Da questo posto Ok 35 Ottimo ragazzi Non facciamolo curare La prima Poi Il finale Ma E continua a sprecare La mazza Vai Continua 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 Non frega Niente 25 Ottimo Questo qua Quanto scurta Ok Prima Prendere uno shot Qui Fallito Completamente Fredo la tempesta Per favore Muori Anche in fretta Mi sa che muoio di dio Muori 53 For real Che sparabende No Io non perdo Quando io sto qua Io non perdo Conto questo qua Ancora shield Questo qui E' la fabbrica Di slurp Nel c***o Oh E' morto Finalmente Arriva ancora shield Davvero Altro shield Vabbè Meglio per me ragazzi Chi se ne frega Fando il mio sparabende Credo che inizia E riesco ad arrivare Infatti Ci sono arrivato Ho messo anche meglio Di quel che immaginassi Ora devo fare Solo una cosa Farmare Ragazzi c'è un abetto Qui sopra Proviamo a pusharlo In una maniera Un po' pazza Ok Aspetta Chiediamolo così Oddio Non so di dare più Abbiamo preso l'agra Questo è l'importante Sta qua Abbiamo capito Che block Sta Quello di prima Prima o poi Feli diamond Ragazzi no Gesù cristallo Spaz Ok Mi sa che è caduto Ho preso 20 di damage Ragazzi Mi aspettavo un po' di più Però Lo preserò fino alla morte Sto qua ragazzi Non deve scappare Ok 35 35 Ottimo Oh Mettiamo questo qua Mi hanno fregato la kill Io lo sapevo Io lo sapevo Che me la fregavano Vabbè Ah Ho pure fregato una benda C***o Let's go Ho un bamba Leggendario Che fa lo booty No non lo booty Oh Ho visto la shield Oh mio dio Quanto toglie la tempesta No 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 Ok ragazzi Aiuto Aiuto Ok Beh ce l'abbiamo fatta A sopravvivere Questo è l'importante Adesso Come faremo a sopravvivere A questo Abbiamo quel tempo Che ci sta sparando lì in alto E ho davvero pochi maz È un ping Molto Molto Di M***o Ok Ho un high ground Assurdo ragazzi Sono sicuro che c'è uno lì Però non ho idea Di dove stia l'ultimo Eccolo qua Appena aperto un end drop Si è fatto sgamare Stanno fai dando ragazzi Devo fregare Ok 34 blue Ok 34 blue Per effetto Facciamo così ragazzi Andiamo a intrometterci un pochino Vabbè io mi tiro qua Ok uno qua 5 avva di danno Mi sa che muoio 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 Sicuro Si sono morto So dead Sono morto Ok Sono morto così Davvero Bast***** 18 kg Che nerd Bast***** Chun chun moro Chun 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 moro Ha